Alla scuola di calcio SD Junior Jar La Vela possono partecipare ragazzi di ogni livello calcistico per fare vivere loro un mondo di calcio e di divertimento insieme a tanti amici. Sono già aperte le iscrizioni presso il centro sportivo La Vela di Riposto. Per gli interessati il mese di settembre sarà gratuito. Abbiamo fatto questa, chiamiamola questa fusione, questa fusione con La Vela di Riposto e stiamo inaugurando l'apertura di questa scuola calcio. Insieme a questi giovani imprenditori della Vela, la scuola calcio Junior Jar esiste già dal 1997 e la nostra filosofia pone sempre il bambino al centro del nostro progetto. Lo dice lo stesso nome, la scuola calcio è scuola, a scuola vanno tutti, sia quelli bravi che quelli meno bravi. Di conseguenza non è una scuola selettiva, poi le qualità del bambino se ci sono verranno rafforzate e espletate, però quello che a noi interessa è fornire un servizio a tutti gli utenti che non devono per forza avere i figli dei campioni, ma per noi i ragazzi sono tutti uguali e non facciamo distinzioni di nessuna sorta. La cosa positiva di questi giovani imprenditori che sul territorio sono riusciti a fare un impianto sportivo che è l'eccellenza della provincia di Catania è il fatto che abbiamo a disposizione due campi coperti che garantiscono anche che il bambino non possa saltare nessun allenamento in quanto anche se c'è cattivo tempo verranno espletati lo stesso. Stiamo cercando di fornire la maggior parte dei servizi possibili perché per i genitori impossibilitati ad accompagnare i ragazzi a scuola calcio e a venirli a riprendere, mettiamo a servizio questo bus e navetta che andrà a prendere il ragazzino a casa e lo riporterà a casa al termine della lezione. Per noi i bambini sono tutti uguali e ognuno ha le sue qualità, ha i suoi talenti e il talento può essere anche un talento psicologico, un talento affettivo, un talento motorio quello che poi il bambino ha dentro noi sicuramente glielo faremo tirare fuori con nostra grande soddisfazione. Un programma di scuola calcio annuale creato per sviluppare le abilità calcistiche di bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni seguiti da un team di istruttori ed allenatori altamente qualificati che si prenderanno cura della crescita fisica e sportiva degli aspiranti e piccoli calciatori in un ambiente sicuro. La scuola calcio è presente nel nostro territorio da 18 anni, quindi è diventata maggiorenne e adesso può andare con i suoi piedi per iniziare un cammino che continua sulla stessa scia, sulla stessa strada da quando abbiamo iniziato, ponendo al centro la crescita del bambino dal punto di vista psicofisico e quindi speriamo che questa collaborazione con la vela possa sortire degli effetti positivi per i bambini di tutto il territorio. Infatti siamo presenti sia nella struttura di riposto alla vela che nella struttura di giarre al campo di atletica. Il centro sportivo la vela è l'unica struttura che ha a disposizione campi coperti per non saltare nessun allenamento. A richiesta è previsto per gli iscritti un servizio bus navetta. Sono molto contenta di aver conosciuto Roberto Festa e il presidente di Osessor Bello di avviarli così insieme nella nostra struttura perché speriamo di far nascere quella che sia la Junior Giara e la vela, la scuola calcio dei bambini che parte dai 5 ai 16 anni che ospitiamo nella nostra struttura e in altre strutture diverse, ognuno per l'età. Noi siamo qui, stiamo facendo il tutto per fare nascere con positività questa società. Vi aspettiamo, come sempre, il nostro staff ci trovate qua, ormai ci conosciamo, vi aspettiamo la vela. Diventa sempre più importante però anche educare e iniziare i bambini alla vita nella società sportiva con doveri e mansioni semplici, corrispondenti e confacenti alle loro possibilità. Così come l'ambiente familiare e scolastico influiscono sulla società, anche il gioco del calcio libero e autodeterminato ha un influsso sul tempo libero del bambino. Io mi reputo un educatore, un educatore perché credo che sostituiamo i genitori in tutto e per tutto e visto che i genitori non hanno più tempo per giocare con i loro bambini ci giochiamo noi. Per noi è facile, per chi ha giocato a pallone come noi e ha amato questo sport è troppo facile, ve lo assicuro. Io dico grazie alle mamme che ci portano i bambini e grazie ai bambini che mi fanno divertire. Allenatori altamente qualificati ed insegnanti di scienze motorie saranno vicini per la crescita fisica e sportiva dei ragazzi perché al centro del loro progetto c'è il bambino. Per le modalità di iscrizione visitate la pagina Facebook dedicata o contattate direttamente il centro sportivo La Vela.